Giorno 498. Molte notizie di oggi vengono dalla regione di Orson. Dopo aver condotto un attacco missidistico sulla testa di Ponte Ukraina, i russi hanno cominciato a realizzare che non avevano cambiato la situazione e che gli ukraini continuavano a proseguire con le operazioni. Cercando di rimediare a questo fallimento, le forze aeree russe hanno deciso di bombardare l'area con le Fab 500, ma sfortunatamente per loro i piloti hanno fatto un pessimo lavoro e le bombe hanno mancato il bersaglio, cosa che ha causato la quasi completa omissione della notizia da parte dei media. Nel frattempo, gli ukraini hanno continuato ad accumulare forze ed equipaggiamento per resistere al meglio agli attacchi russi. I russi erano tuttavia convinti che i rinforzi servissero soltanto a ripinguare le perdite e mantenere la testa di Ponte. Han quindi mandato un unico T-72 ad assaltare le posizioni ucraine, commettendo un grave errore di valutazione. Un gruppo di ricognitori ucraino ha notato immediatamente il carro mentre avanzava e comunicato l'informazione agli operatori di missili anticarro, che si sono poi posizionati per accogliere gli attaccanti. Nel momento in cui il carro ha raggiunto le posizioni, un missile lo ha colpito, mandando in panico l'equipaggio, che ha cercato di fuggire, ma subito dopo il carro è stato colpito da un secondo missile, causando danni critici e facendolo andare fuori strada. Dopo aver ricevuto chiari segnali che gli ukraini non avevano perso la loro capacità di combattimento, il comando russo ha cominciato a pianificare un nuovo attacco. Le forze russe hanno lanciato un'estensiva preparazione d'artiglieria sulla parte est della testa di Ponte Ukraina, cosa che ha aperto una finestra d'opportunità per i russi per entrare nella regione e condurre operazioni offensive. È stato riportato che hanno utilizzato diversi corazzati e un carro utilizzato per fornire fuoco di supporto a distanza, per diminuire le possibilità di perderne un altro. Fonti russe hanno immediatamente riportato il successo dello schieramento e del fatto che le unità russe stessero spingendo via le truppe ukraine senza problemi. Tuttavia, appena si sono avvicinati al ponte, i russi hanno subito un pressante fuoco d'artiglieria. Realizzando di essere caduti in una trappola, hanno cercato di sfondare, assegnando questa rischiosa manovra al distaccamento Stormze, composto principalmente da Galeotti, mentre i soldati della 205esima e 61esima brigata ripulivano le case. Azione rischiosa che però non ha riparato e dopo aver subito pesanti perdite, le forze russe hanno cominciato a ritirarsi. Il comando ha deciso di aumentare gli sforzi, rinforzare le unità a terra e aprire una seconda asse d'avanzata. Il tutto basandosi sull'ipotesi che, se gli ukraine stavano avanzando verso est, significava necessariamente che la parte ovest del ponte fosse più debole. Fonti russe riportano che l'operazione russa si è bloccata e le truppe si sono ritrovate in una situazione molto difficile. E più tardi, fonti ukraine riportavano intercettazioni radio nelle quali i russi rifiutavano di avanzare senza supporto aereo, specialmente senza FAB-500. Quando è diventato chiaro che il supporto non sarebbe arrivato, hanno cominciato a ritirarsi. In generale, gli ukraine sono riusciti ad attirare i russi in una trappola, facendo in modo che esponessero i loro fianchi. Gli analisti russi hanno cominciato ad accusare il comando di aver pianificato superficialmente l'operazione, che è inevitabilmente fallita. Il viceministro della difesa ukraine ha dichiarato che i combattimenti pesanti hanno permesso agli ukraine di infliggere perdite sostanziali al nemico eliminando 50 soldati russi, 23 corazzati e diversi droni e barche. Il prosciugamento delle risorse russe in questa direzione contribuisce all'esaurimento delle capacità combattive russe, che una volta arrivate a livello critico permetteranno agli ukraine di avanzare verso l'Eschki. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ukraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie per la visione!